Si torna a parlare del cementificio di Pescara, si torna a parlare del destino dei suoi lavoratori. Se negli anni scorsi si erano succedute tante proteste per i tagli al personale, la cassa integrazione e in più riprese sulla presenza dell'edificio in un'area ormai popolata di abitazioni, oggi la CGL lancia l'allarme per i 20 dipendenti rimasti a lavoro. Sembra infatti che a marzo, nel corso della procedura di riduzione di personale che ha portato al licenziamento di decine di lavoratori a Pescara, la SACCI avrebbe comunicato alle organizzazioni sindacali, nazionali e provinciali l'intenzione di chiudere definitivamente il grande edificio, lasciando senza lavoro anche i 20 lavoratori rimasti. Dall'altra parte si fa strada alla voce di un interessamento da parte del colosso Buzzi Unicem, intenzionata pare ad acquistare il 99,5% delle quote societarie della SACCI. È proprio questa voce ad insospettire i sindacati che temono uno smaltimento di voci di spesa dagli stabilimenti meno produttivi, quale quello di Pescara, così da rendere più appetibile l'acquisto al colosso interessato.